La Bibbia è molto precisa e ci insegna molto bene sull'argomento di quello che sta a monte di questa grande gioia, di questa enorme gioia, cioè di quest'amore che Dio ha avuto per noi e ha progettato, come diceva la Dio Dati, prima che il mondo fosse. E se venite in Prima Corinzi 13, oggi spero che non siate super estriziosi, se lo siete peggio per voi, perché ora leggeremo due capitoli 13, leggeremo Prima Corinzi 13 e Giovanni 13, ok? E Prima Corinzi 13, lo leggo velocemente, è proprio il capitolo che parla dell'amore, Paolo dice se facessi così, se facessi così, ma sarebbe tutto inutile, se non avessi amore farei solo rumore, non serverebbe a niente, anche se facessi sacrifici più incredibili, ma se lo facessi, se non lo facessi per amore sarebbero assolutamente inutili, anzi dice al versetto 3b non mi gioverebbe a niente, no? Poi va avanti e dice al versetto 4, dice l'amore è paziente, cioè patisce, ok? L'amore patisce, ci sono delle cose che bisogna patire per nessun'altra ragione salvo quella che amiamo e che vogliamo amare, apro una parentesi per dire che molte volte l'amore non è un'emozione, questo succede anche nel matrimonio, non è che io amo Aida 24 ore al giorno, 7 ore alla settimana, 365 giorni all'anno, certe volte obiettivamente, no ma per dire, per dire, per dire, mi può dare anche saltuariamente un po' fastidio, ma l'amore è una decisione, ok? E anche l'amore di Dio per noi è una decisione, anche l'amore nostro verso i nostri fratelli è una decisione, io li amo perché li amo, non perché sono amabili o perché io sono amorevole, ok? E' per questo che l'amore è paziente, se no non ci sarebbe bisogno di essere pronti anche a essere pazienti, ok? L'amore è benevolo, cioè desidera il bene degli altri, ok? L'amore non invidia, l'amore non si vanta, l'amore non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, questa è una parola molto difficile perché capite bene che sconveniente dipende da tante cose, dipende da come sono abituato, dal paese da cui provengo, dalla lingua che parlo, dalla mia famiglia, non è facile dire comportati in modo conveniente, conveniente rispetto a cosa, e questo mette in luce proprio il fatto che se io non ti conosco, non so che cos'è conveniente per te, e se tu non mi conosci, non sai che cos'è conveniente per me, per cui ti puoi comportare in modo sconveniente verso di me, e io verso di te, e perché non ci conosciamo, se ci conoscessimo lo sapremmo che per te questo è sconveniente, per me questo è sconveniente, per cui ecco la chiave del comportarsi in modo conveniente e sconveniente, che sicuramente non è una delle aree in cui io sono più preparato, non cerca proprio interesse, e se a grandi linee siamo tutti d'accordo, nel più piccolo invece è diverso, decidiamo questo in chiesa, ma va nella direzione di quello che voglio oppure no? Scegliamo questo canto, quell'altro canto, scegliamo questo orario, quell'altro orario, ma va nella direzione di quello che mi piace oppure no? L'amore non si comporta così, non si inasprisce, ok? Non addebita al male, non penso che tu abbia fatto il male finché non te l'ho chiesto e non abbiamo proprio verificato che l'hai fatto, invece tantissime volte succede l'opposto, no? Ah lo sai che lui ha detto così ma voleva dire così, non so, gliel'hai chiesto, hai sentito? Perché poi lei ha sentito, no, l'amore non addebita al male, non gode dell'ingiustizia, te lo sei meritata, beh per forza, se l'hai meritata, hai visto come ha trattato suo marito per vent'anni, è chiaro che è scappato con una ballerina, così impara, ok? L'amore gioisce con la verità, soffre ogni cosa e soffre ogni cosa, di nuovo è una parola su cui vale la pena dire una brevissima parola, una brevissima nota, no? Perché noi siamo abituati a leggerlo, prima Querenzi 13, l'amore è paziente, benevolo, l'amore non invidia, l'amore non si vanta, ok? Ma che cosa vuol dire soffre ogni cosa? Vuol dire che le tue difese immunitarie sono molto molto basse, hai una bassa tolleranza, qualunque cosa ci rimani male, soffri, perché non te l'aspetti da tuo fratello, da tua sorella, non te l'aspetti, per cui non sei difeso, sei indifeso, per cui ti colpiscono molto più profondamente, soffre ogni cosa, quella mezza parola che è in ufficio, figurati, detta da tuo fratello, tua sorella, ti colpisce tantissimo, soffri ogni cosa, la tua tolleranza è molto bassa, sei indifeso, credi ogni cosa, se me l'ha detto, sarà vero. Ogni volta che leggo questo versetto penso a mio padre, a mia madre, che hanno creduto delle cose di me da ragazzino che, però ci credevano, più mio padre, meno mia madre, ma ci credevano, erano convinti che dici sia la verità, e questo è un simbolo di amore, spero ogni cosa, sopporto ogni cosa. L'amore non varrà mai meno, le profezie verranno un'abolite, e poi va avanti al versetto 13, prima Corinzi, 13, 13, dove dice queste tre cose durano, fede, speranza e amore, ma la più grande di esse è l'amore, cioè alla fine, alla fine, quando tutto sarà finito, tutto sarà finito, scomparso, sarà tutto nuovo, ok? Non ci sarà più bisogno di fede, perché saremo lì, non ci sarà più bisogno di speranza, sta succedendo, non devo sperarlo, ok? L'unica, l'ultima cosa di cui ci sarà bisogno e ce ne sarà per sempre è l'amore, ok? Non è una sciocchezza, non è Titanic, ok? È vero, è quello che dice la parola di Dio. In Giovanni 13, Giovanni 13, dice una cosa molto simile, di cui mi metto in luce solo un aspetto un po' particolare, vuol dire molto molto di più, Giovanni 13, ma Giovanni 13, al versetto 1 dice, ora prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta per lui l'ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. Cioè, l'ultima cosa che Gesù ha portato, l'ultima cosa che è sopravvissuta insieme a Gesù, fino all'ultimo, tante cose non sono sopravvissute con Gesù fino all'ultimo, ok? La sua dignità, tante altre cose, non mi voglio dilungare su questo, ma una cosa è durata fino alla fine, 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 è il fatto che Gesù ha amato i suoi discepoli, ci ha amato, fino alla fine, ok? E credo che anche questo sia una cosa su cui è difficile mantenere un certo autocontrollo, ok? È una cosa fantastica, è alla base di quell'enorme gioia. E questo l'abbiamo visto, questo signore, questo signore si chiama Gary Chapman, è uno scrittore di best seller internazionale, ha fatto una fortuna notevole per degli scritti che ha fatto, e questa è una cosa molto interessante. Un'altra cosa molto interessante è che questo signore è un credente molto impegnato, è vice pastore, in effetti, di una grandissima chiesa battista in Stati Uniti, è responsabile del lavoro tra le coppie, verificazione, è un credente impegnato al 100%, in effetti il suo mestiere è di essere pastore, è il fatto di essere diventato uno scrittore di best seller, di aver ammassato milioni, è successo, se ci credete, per incidente, per caso, se non ci credete è stata la mano di Dio, ok? E questo nostro fratello, questo nostro fratello, Gary Chapman, ha scritto nel 92, mi sembra, o giù di lì, fine anni 90, è un libro che ha cambiato il modo di vedere di queste cose, che ha spiegato cose che prima non si erano mai spiegate, e che in italiano si intitola I 5 linguaggi dell'amore. Ok? Questo nostro fratello, oltre ad essere pastore, se non lo contate male, ha quattro lauree diverse, tutte centrate intorno a questi argomenti, è veramente un esperto, e questo nostro fratello ha identificato nel comportamento che ha a che vedere con l'amore, diciamo 5 grandi aree, alle quali più o meno tutti possono essere ricondotti, e l'ha chiamati, quadro dopo, I 5 linguaggi dell'amore, che sono questi. Questo nostro fratello dice che in qualunque modo tu mostri il tuo amore agli altri, sarà sempre in una di queste cinque aree, o nelle parole di affermazione, cioè dire alla gente, bravo, hai fatto bene, complimenti, sono orgoglioso di te, va bene, bravo! Ok? Tempo di qualità. Non vengo con te perché non ho altro da fare, vengo con te perché voglio venire con te, e pianto lì quelle altre cose che ho da fare, e dico no a degli altri per stare con te. Regali, regali sia fisici che regali di tutti i tipi, l'atto di donare qualcosa gratis, atti di servizio, vengo e cucino, vuoi una mano? Ti serve una mano? Vengo a fare questo, cambi l'olio della macchina, ti do una mano? Devi traslocare, aspetta, aspetta che chiamo un po' di... veniamo lì a camalarci i mobili, ok? Atte di servizio. Contatto fisico. Contatto fisico, toccare, accarezzare, essere vicini, essere presenti, mettere la mano sulla spalla. E poi, molto più avanti, in campo coniugale, ovviamente, anche i rapporti sessuali. Queste cinque aree, in queste cinque aree c'è il tuo modo di mostrare amore e c'è il tuo modo di capire quando gli altri ti mostrano l'amore. E questo è molto importante perché se supponiamo il tuo modo di capire amore è atti di servizio e un altro ti mostra amore con contatto fisico, magari non lo percepisci come amore, lo percepisci come fastidio, perché tu vorresti che ti desse una mano, ok? Non ci entra di male, è giusto. Per questo che è importante capirlo. Lo capisco io, lo spiego a te e così sappiamo... io ho capito che lingua parli, tu hai capito che lingua parlo io e ci capiamo, sennò prima non ci capivamo. La cosa interessante è che, come molti di noi fanno, uno può parlare anche più di una lingua, ok? C'è la sua lingua madre, più il tempo di qualità, ma parla anche abbastanza bene la lingua del contatto fisico e se la cavicchia con la lingua dei regali, ok? Per cui è interessante vedere qual è la prima, qual è la seconda o qual è la terza. In un'analisi più avanzata si chiama, non Chapman direttamente, ma chi ha lavorato dopo, la chiamate le lingue principali e le lingue vernacolari, come se uno parlasse italiano e genovese, no? Allo stesso modo. E' anche importante questo da sapere. Questo, queste cinque aree, come dicevo prima, si rivolgono al modo in cui tu mostri amore agli altri istintivamente e al modo in cui tu ricevi l'amore degli altri istintivamente. Per cui conoscerlo è molto molto utile. Uno dei capitoli del corso copio che a idea io stiamo tenendo, abbiamo ne appena finito uno, è proprio questo. Cioè un capitolo intero, due ore, con le copie presenti, solo su questo. Qualche esercizietto, qualche test, due chiacchiere. Ed è bellissimo vedere magari coniugi sposati da vent'anni che, ma come? Ma non me l'hai mai detto? E io sono stato lì a perdere tempo, a fare il tempo di qualità. Ma le parole d'affermazione, ma scusami, io pensavo, no, non è vero, in vent'anni non mi hai mai detto che cucina bene? Non lo so. Ed è veramente interessantissimo. Ed è un grande passo avanti. Ed è un grande passo avanti. Questa opera di Chapman è stata poi declinata in diverse aree. Esiste per il matrimonio, esiste per i ragazzi, per gli adolescenti, cioè pro-adolescenti e da-adolescenti, ed esiste anche per le chiese, no? Per capire all'interno di una chiesa come si fa ad applicare, a capire e ad applicare tra fratelli e sorelle questi cinque linguaggi dell'amore. E da questo punto di vista che stamattina ne diamo un'occhiata, con alcune particolarità che adesso vediamo insieme. La prima delle aree, e dico prima non perché è più importante, ma perché semplicemente Chapman è partito da lì, la prima delle aree sono le parole d'affermazione, che a tu per tu, abbiamo capito benissimo, no? Bravo, hai suonato bene stamattina. Bravo, mamma mia, stamattina l'accoglienza era perfetta. Le seggiole erano veramente... qualunque cosa ti venga in mente per dare una parola di affermazione, di incoraggiamento, di edificazione a qualcuno dei tuoi fratelli e delle tue sorelle. Tutto questo si basa sull'amore che abbiamo letto in Prima Corinzi 13,13 e in Giovanni 13, ed è importante ricordarsi, ricordarselo sempre, che non è sempre un sentimento, ma è una decisione, ok? Può darsi anche che le seggiole tutte in fila mi devono fastidio, però qualcuno l'ha fatto e una parola di affermazione è molto importante. Sono parole dette allo scopo di far star bene gli altri, di edificare, di incoraggiare, di far sentire stimati. Al di là dell'analisi di Chapman, nella parola di Dio, vi prego di verificare e dirmi se ho torto, nella parola di Dio non è previsto il contrario. Non sono previste parole che non fanno stare bene gli altri, che non edificano, che non incoraggiano, che non fanno sentire stimati. No. Se hai una parola di questo tipo, in privato esistono, diciamo, diverse modalità, ma non è questo di cui sta parlando la parola di Dio, ok? Potrei citarvi anche qua filippesi, colossesi, dove dice esattamente quali sono le parole che devono uscire dalla nostra bocca. Le altre no, ok? Le altre no. Per esempio, un esempio carino, ho cercato di scegliere degli esempi un po', diciamo, alternativi per aprirci un po', per sforzarci un po', no? Matteo 25, Matteo 25, o lo trovi, o ve lo racconto, è la parabola dei talenti, no? Per cui c'è questo ricco che parte per un viaggio, si piglia i suoi talenti e li divide tra i servi che sono rimasti a casa, 20, eh? Da 14, 25, 14, e poi il quadro successivo lo mettiamo dopo, dopo, e divide i talenti, uno è da 5, a un altro 2, a un altro 1, ognuno dei servitori, sapete, fa, va in banca, cioè veramente i primi due, non ognuno, e quando lui torna gli danno i talenti moltiplicati, tranne uno che dice io non ho fatto perché sapevo che tu eri un uomo duro, che raccogli dove non semini, e il padrone dice, appunto, allora, scusa, se lo sapevi, a maggior ragione ti conveniva darti da fare, no? Perché adesso ti tocca stare fuori dove ci sa il pianto e lo stridore dei denti. La cosa interessante, tra le tante cose interessanti, 19, dopo molto tempo, sorvolo sulla buca in terra del servitore con un talento solo che è fantastica, dopo molto tempo il padrone di quei servi ritornò a fare i conti con loro, 20, colui che aveva ricevuto i 5 talenti venne e presentò altri 5 talenti dicendo signore tu mi affidassi i 5 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 5, e il suo padrone gli disse, va bene, servo buono e fedele, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo signore. Poi si presentò anche quelli due talenti e disse, signore tu mi affidassi i due talenti, ecco ne ho guadagnati altri 2, e il suo padrone gli disse, va bene, servo buono e fedele, sei stato fedele in poca cosa. Poi si avvicinò anche a quello che aveva ricevuto un talento solo e disse, signore, quello che dice il padrone ai versetti 21 e 23, se facciamo un po' un passo indietro dalla parabola che conosciamo così bene, no? Diciamo dal fatto che questo servo sia stato buono e fedele, noi siamo servi buoni e fedeli, utilizziamo i nostri talenti, è tutto verissimo. Facciamo un po' un passo indietro, guardiamo le cose un po' da un altro punto di vista. È veramente stupefacente, è veramente stupefacente che il padrone abbia dato una quantità di denaro inverosimile a questi servi, sia partito per un lungo viaggio e dopo molto tempo, come dice al 19, sia tornato, gli vengono presentati i conti e si esprima così. È ancora più stupefacente, perché come vi ho già accennato, se leggete al versetto 24, vedete che dice signori, io sapevo che sei un uomo duro, che mi vieti dove non ho seminato, raccoglio dove non ho sparso, ho avuto paura, e al 25, al 26, il padrone dice, servo malvagio e fanno un lungo, tu sapevi che io mi vieti dove non ho seminato e raccoglio dove non ho sparso. Non lo nega mica, non nega mica di essere un uomo duro, di aver usato una giustizia alle volte difficile da capire, non dice mica non è vero il padrone, dice è vero, è vero, io sono uno bianco e nero, sì, no, qui dentro, qui fuori. È così, hai ragione. E da questo atteggiamento e dal concetto che da questi servi ci si aspettava, era il loro dovere, gestire i cinque, diciamo, la prima parte dei talenti in modo che fruttasso, era il loro dovere, non c'era ragione di esprimersi come si è espresso al versetto 21 e al versetto 23, non c'era ragione di lodare, non c'era ragione di dire, va bene, bravo, bravo, servo buono e fedele, bravo, sei stato fedele, a te è sembrato tanto, ma era poca cosa in confronto tutto quello che ho, ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore. È illogico, è fuori ritmo. Sarebbe stato giusto dire, fammi vedere i conti? Ok, va bene, sì, ok, hai fatto il tuo dovere, quello che mi aspettavo da te. Prossimo, in questo contesto. Invece in questo contesto il padrone si prende la briga di esprimere delle parole che edifichino, che incoraggino. Lo fa gratis, perché era il suo dovere farlo. E il padrone aggiunge queste parole che edificano, che incoraggiano. E sapete perché? Perché parte del premio che hanno ricevuto questi servi, il primo e il secondo, è proprio rappresentato dal sapere che il padrone è contento di te. È proprio quello, che fa parte del premio, di sentirsi dire, ma bravo, ma bravo, hai fatto bene, bravo. Sono orgoglioso di te, hai fatto davvero bene, buono, fedele. Vieni, vieni con me. Questa è una parte del premio. E dal punto di vista della Chiesa, questa è una parte del premio che riceveremo. Ok? Oltre a tutto il resto, fatti su molte cose, quello che abbiamo patito qua, fatto qua, alla fine, a noi è sembrato, chissà che, ma alla fine era poca cosa. Ora sì, dice Dio che ti farà vedere delle grandi cose. Vieni, vieni con me. Vieni con me. E questo fa parte del premio. Fa parte del premio che Dio ha preparato per noi. Così importante. Parole di affermazione. Le uniche previste dalla Bibbia in questo rapporto orizzontale tra di noi. Ve ne cito un'altra, sempre così un po' alternativo, di versetti che dicono tantissime altre cose, ma che letti da questo punto di vista ci fanno vedere. Ok? Matteo 16,15, ve lo leggo io velocemente, ed egli disse loro, e voi chi dite che io sia? Simon Pietro rispose, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Gesù, replicando, gli disse, tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. E anche io ti dico, tu sei Pietro, su questa pietra edificerò la mia chiesa, le porte dell'Ade sono la poteranno vincerti, darò le chiavi del regno, tutto ciò che legherai in terra sarà legato nel cielo, tutto ciò che scioglierai in terra sarà sciolto nel cielo. Pietro, e poi ordinò ai discepoli di non niente nessuno. Anche qua Gesù ha fatto un gesto gratis per Pietro, bastava dirgli giusto. Ok, no? Gesù si è preoccupato di edificare questo uomo, questo pescatore, rozzo, barbuto, che tante scemate ha fatto e tante scemate farà. Ma gli vuole far sapere che è fiero di lui, che è orgoglioso. Bravo Pietro! Beh, sei beato! Sei beato, perché non ci sei arrivato con la tua intelligenza, ma hai ascoltato quello che lo spirito ha da dirti. Bravo! Bravo! Continua così. Tu sei Pietro, su questa pietra edificerò la mia chiesa, quello che legherai sarà legato. Parole di affermazione, di incoraggiamento. E l'ultimo che vi cito così, sempre velocissimamente, sempre versetti un po' alternativi, ma spiegano anche questo, Prima Corinzi 11,1, dove Paolo dice Siate miei imitatori come anch'io lo sono di Cristo. Ora vi lodo perché vi ricordate di me in ogni cosa e conservate le mie istruzioni come ve le ho trasmesse. E anche questo modo di dire non è esattamente logico nel contesto in cui questo versetto si svolge. Ok? Vi ringrazio. Grazie della roba che mi avete mandato. Ok? No, Paolo vuol sapere che li loda, che è fiero di loro, che l'ha veramente apprezzato. E voglio che lo sappiate. L'ho veramente apprezzato, io vi lodo. Vi lodo perché vi ricordate di me in ogni cosa. E conservate le mie istruzioni come ve le ho trasmesse. Sono fiero di voi, siete come se fossi i miei figli. Fate quello che vi ho detto di fare. Vi lodo. Parole di affermazione. Parole dette allo scopo di far star bene gli altri, di edificare, incoraggiare e far sentire stimati. E in questo contesto di Chapman letto secondo la Chiesa, come Chapman stesso più avanti ha scritto, secondo voi queste parole di affermazione, di edificazione, per la Chiesa di Via Morin, come potremmo fare per fare meglio? Queste parole, come potremmo a livello Chiesa mettere maggiormente, meglio in pratica, l'idea di dire parole che edificano gli altri, che incoraggiano? Sacro santa verità. Ok, la sincerità. Non te l'ho detto perché mi tocca dirtelo, non te l'ho detto perché faccio bella figura a dirtelo, te l'ho detto perché è vero, giustissimo. Non solo chiacchiere, ma anche fare. Ok, ma anche fare. Sì, poi ognuno si sente, certo, diciamo non si lode, non si gonfia, per quello che ho letto prima Corinzi 13, perché giustissimamente è in questo contesto, non è che, ah, fermi tutti, voglio che guardiate tutti Rachele, è carino, però alle volte può anche essere che sia un po', secondo prima Corinzi 13. Ci sono le diverse fasi, ma sicuramente quello che Sara ha sottolineato è che siccome l'amore non si comporta in modo sconveniente, conveniente, che conviene, che funziona bene, che va insieme, conviene, ok? proprio quello di dire delle cose che io so che sono vere, perché se no è solo, come si dice, teologicamente, fuffa, ok? Ok, tempo di qualità. Il tempo di qualità è un tempo dedicato agli altri, non quando posso, ma quando fa piacere agli altri, quando se ne presenta l'occasione, non quando comoda a me, anche se avrei altre cose da fare. Tempo di qualità è quando io sono concentrato sugli altri e sulle loro aspettative. Il secondo Chapman è uno del, diciamo, il secondo grande linguaggio in cui si può mostrare amore e si può capire amore dagli altri, ok? In un recente corso copico che abbiamo fatto Aide e io, tutte le otto, sette, diciamo, incontri, è venuta una signora che molto presto ci ha raccontato delle sue difficoltà col marito, che erano anni che il marito prima la maltrattava, la insultava, poi recentemente, recentemente, da qualche anno, non le parlava proprio più, cioè, entrava, usciva, sentiva la porta sbattere, se ne andava, chiuso, basta, non c'erano più contatti. Per cui, men che mai venire in chiesa, men che mai andare a cena fuori insieme, zero, ok? Zero. Lei era molto triste e ci ha chiesto cosa si poteva fare e ne abbiamo detto, ti dico la verità, non lo so, ecco, perché per andare d'accordo bisogna essere in due, non si può andare d'accordo da soli, bisogna trovare un terreno comune e se questo terreno non c'è, chiediamo al Signore che ce lo crei, ecco, ok. Alla fine, diciamo, di questi incontri per coppie, di solito l'ultima serata non è proprio, diciamo, un incontro standard, ma una serata un po' speciale, è un po' particolare, eccetera, eccetera, che, bene o male, è organizzata per coppie, per cui questa signora da sola, però le dici, statene a casa, è peggio ancora, le dici di venire, è peggio ancora, è tutto peggio, e anche a sorella dico, non so, tu, non so, vuoi venire o preferisci stare a casa? No, 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 io voglio venire, voglio venire, e anzi, voglio dire che sto pregando al Signore perché mio marito decida, così, in un modo pazzo, dopo anni che non mi parla neanche, di venire a questa serata particolare di chiusura a corso. Oh, sorella, puoi pregare, puoi chiedere a Dio quello che vuoi, anzi, lo facciamo insieme, eccetera, eccetera. È venuta, abbiamo iniziato la serata, il marito non c'era, dopo un po' la chiamata gli ha detto forse vengo, allora lei era tutta contenta, però è passata, non so, tre quarti d'ora, un'ora, questo qua non veniva, l'imbarazzo è ancora peggio, e allora lei è andata fuori, io ero poco distante, sentivo, ho sentito, anche perché la voce era piuttosto, ad alto volume, e ho capito che il marito le diceva non vengo perché c'era la Champions, c'era la partita di Champions, la finale di Champions, eccetera, eccetera, e lei le ha detto vabbè, però cavolo, la finale di Champions, dai, fatela registrare da qualcuno, sì, lo so che le vuoi vedere in diretta, lei diceva, si vede che lui le diceva registrata nello stesso, dopo 20 minuti è arrivato il marito, allora, immaginate lo shock positivo, non soltanto è venuto, ma è venuto saltando la finale di Champions, e l'ha fatto per me, l'ha fatto per me, questo è esattamente l'effetto del tempo di qualità, ok? poi è chiaro che in questo caso c'è molto rimane da costruire, ok? Però come impatto è venuto per far piacere a me, ha fatto questa cosa per far piacere a me, aveva delle altre cose da fare, delle cose che gli piacciono di più, che non ha fatto per far piacere a me. Luca 22 15-20 velocissimamente gli disse loro o vivamente, la Dio Dati dice grandemente, che è un po' diverso, ed è molto interessante, desiderato di mangiare questa pasta con voi prima di soffrire, di tutte le cose che Gesù aveva da fare, di tutti i pensieri, di tutte le preoccupazioni, di tutti i pensieri che sono nella mente di un uomo che sa che sta per morire in un modo terribile, di tutte queste cose. Gesù ha grandemente desiderato di mangiare questa Pasqua con noi. È tempo di qualità o no? Ok? L'ha fatto per me! Il pane di vino l'ha fatto per me! Aveva ben ben altre cose da fare, ma l'ha fatto per me! Ok? Luca 1,39 In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta nella regione montuosa, in una città di Giuda ed entrò in casa di Zaccaria e salutò Elisabetta e sapete che Giovanni, il futuro battista, nell'utero di Elisabetta ha fatto un salto perché ha sentito la vicinanza con Gesù, eccetera, eccetera. Sono andato un po' a scartabellare, ho letto un pochettino in giro e l'idea vincente, l'idea più standard, diciamo, è che a quel tempo si capisce da altri versetti che, adesso non vi sto a far perdere tempo, Maria vivesse a circa 150 chilometri da dove stava Elisabetta. Ok? Questi 150 chilometri venivano percorsi o a piedi o a dorso d'asino. sono andato a vedere la media della velocità a dorso d'asino, se lo cavalchi, se hai un carretto, più o meno le soste, per farmi un'idea di cosa voleva dire. E così ho un po' calcolato, diciamo, sulla base di quello che ho potuto trovare, che siccome a dorso d'asino o col carretto o a piedi di buon passo più o meno si fa la stessa velocità, 4-5 chilometri all'ora, soprattutto all'epoca erano persone più allenate di noi, per cui diciamo che ci vogliono 30-40 ore per percorrere questo pezzo di strada che il versetto 39 trick e track ci dice andrò in fretta. 30-40 ore di cammino per cui diciamo 4-5 giorni più o meno di cammino in cui bisogna mangiare, bere, dormire, occuparsi di queste cose qua, incinta, ok? non sugli altopiani del Clermont-Ferrand ma tra Nazareth e Betlemme con un caldo che bastona, ok? Questo concetto, quello che Maria ha offerto Elisabetta, è tempo di qualità o no? È stratempo di qualità. è partita a piedi incinta da casa sua e ha camminato 4-5 giorni per andare a salutare sua cugina perché erano tutti e due incinta e capivano che c'era qualcosa di più, di speciale. È vero che un gesto vale più di mille parole. Le è mandato una lettera a un piccione viaggiatore dicendogli io ti voglio bene era carino ma in questo modo ok? Questo è il tempo di qualità. Allora, secondo voi la Chiesa di Viamorin come fa a sferimentare secondo voi ognuno di noi? Come può dare tempo di qualità? Visto che lo stiamo vedendo dal punto di vista della Chiesa. Sì, a parte che avviene tra te e me. Ok. Comunque sì. Il gruppo Lode. non potrei essere più d'accordo. Il mercoledì sera. Tempo di qualità. Tempo dato anche quando ho altro da fare. Renata. Allora, se qual è il mio concetto a tutti i qualità o a tutti i ragazzi che ho fatto le mie occhi, secondo me se il personale non è vero la qualità è sempre che fa il mio di una persona e per esempio la parte che si è pronto a quale è importante se io ho fatto il tempo con una persona in modo più interna con una prima di un'idea fare passare il tempo che fa tipo vuoi dire tipo che mi metto a leggere Whatsapp mentre sono a tavola con te infatti all'inizio nella definizione che ho mutuato da Chapman ho sottolineato ma l'ho visto molto velocemente ho sottolineato tempo è concentrato sugli altri e sulle loro aspettative ok questa è la definizione del tempo qualità non è solo la quantità è la qualità ti ho visto certo dimmi strano grazie grazie mille le agape sono un tempo di qualità un tempo che si dà anche se abbiamo altre cose da fare giustissimo giustissimo dal punto di vista del tempo correttissimo uno dei linguaggi successivi sarà proprio i gesti di servizio che risponde ancora meglio è nata la qualità la qualità di questo poi c'è il modo di cosa di avere perché non è la salute c'è la salute di altre cose però non è la salute non è la qualità di questa possibilità non è bene giustissimo infatti diciamo a un certo punto mi fermo perché sennò qui davvero finiamo stasera alle 6 ma per questo è utilissimo sentire i vostri punti di vista ok Chapman parla proprio di lingue e lingue vernacolari lingue principali e vernacolari per cui sotto ogni lingua c'è tutta una serie di ricadute di cui Renata ha molto messo in luce ci sono delle cose che non basta farle bisogna saperle fare bene quindi bisogna essere preparati prima ok Giorgia e poi andiamo avanti corretto benissimo il tempo galoppa accelero il successivo sono i regali i regali non pensate solo a quelli di Natale col pacchetto e il fiocco sono anche quelli ok ma i regali regalo e dono beh a essere precisi regalo non è dono perché dono viene dalla radice di dare regalo viene dalla radice di re ok perché il dono è una cosa che io ti do il regalo è una cosa che una persona potente importante decide di darti perché è buono perché è gentile ok le accezioni sono leggermente diverse infatti questa questa fantastica cosa del perdono cioè dell'iperdono in italiano si può anche dire il super regalo e aggiunge ancora sapore perché non è solo un dono è il perdono ma non è solo un iperdono è un iperregalo perché il re me l'ha dato gratis perché ne aveva voglia perché è gentile ok e io posso scambiarmelo con i miei fratelli e le mie sorelle bu Apocalisse 22 17 accelero velocissimamente e vi dico tre cose la prima lo spirito e la sposa dicono vieni e chi ode dica vieni che assente venga chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita una delle caratteristiche di questi doni che hanno a che vedere con il linguaggio dell'amore è di essere immeritati immeritati non me lo meritavo e mi ha detto chi vuole venga e prenda dell'acqua della vita Prima Timoto 4.13 applicati finché io venga alla lettura dell'esortazione dell'insegnamento non trascurare il dono che è in te e che ti fu dato mediante la parola profittica insieme all'imposizione delle mando e al consiglio del collegio degli anziani una seconda caratteristica dei regali dei doni nei cinque linguaggi dell'amore è che spesso il dono coincide o include responsabilità hai un dono hai ricevuto un dono non lo buttare via impegnati applicati ok usa al meglio il dono che io ti ho fatto che Dio ti ha fatto ok è come ricevere una cosa carina importante bella il bimbi a casa mia per Natale e poi buttarlo in un cassetto e non usarlo tu che me l'hai regalato secondo te ci resti bene o no no perché si capisce che non te ne importa niente non lo usi ok dono uguale responsabilità Matteo 20 da 1 a 6 il regno dei cieli è simile a un padrone di casa il quale uscì di mattina presto per assumere dei lavoratori per la sua vigna e si mise d'accordo a te dò un talento se lavori tutto il giorno pipipipupupu e poi arriva alla fine della giornata c'è quello che ha lavorato un'ora sola che più non tanto come gli altri e comincia da loro a pagare gli altri gli dicono beh cavolo sì che mi ha proposto un talento ma se ne dà uno a questo qua che ha lavorato un'ora a me darà ben di più e invece no gli dà uguale e che scandalo ma egli rispondendo a uno di loro disse amico non ti faccio alcun torto non ti sei accordato con me per un denaro prendi il tuo e vattene ma io voglio dare a quest'ultimo quanto a te non mi è licito farvi il mio ciò che voglio o vedi di malocchio che io sia buono una caratteristica classica di un dono di un regalo è che è gratis infatti esiste anche esiste anche la categoria dei doni con l'elastico cioè che io ti faccio un dono ma mi aspetto il contro dono da te ti faccio un regalo e poi tu per sdebitarti mi inviti a cena al matrimonio eccetera eccetera non sono questi i doni di cui parla la Bibbia sono doni gratis la gratuità ok la grazia la benevolenza la gratitudine qualcosa che ti rende piace è piacevole ti rende felice ok e infatti velocissimamente vi cito solo che Matteo 18 dice come avete ricevuto gratis date gratis lo parafraso perché il linguaggio biblico è un pochino più elegante del mio non vi farò l'esamino di come facciamo a farlo in chiesa questo è altro è senz'altro una delle risposte e vi vorrei parlarvi degli atti di servizio gli atti di servizio per esempio Gesù ce l'ha fatto vedere lavando i piedi dei discepoli ok Maria l'ha fatto vedere lavando Gesù gli atti di servizio sono questi atti questi gesti che hanno un risvolto pratico cioè sono di servizio ok hanno un risvolto pratico e sono fatti per mostrarti amore e di questo vuole che ve ne parlasse Stefano anche in rappresentanza di tutte le persone che in questa chiesa sia all'interno della chiesa sia all'interno di missioni come UAS e altri proprio mostrano amore con questi atti di servizio buongiorno a tutti per chi non mi conosce mi chiamo Stefano e questo sì atto di servizio proprio sono state vede tante cose legate che rappresentano veramente UAS UAS è l'unione evangelica per la solidarietà UAS è uno strumento di servizio per l'assistenza alle persone che hanno che hanno bisogno di un piatto caldo di una parola di conforto e di essere soprattutto ascoltate è uscita più volte la parola ascoltare essere ascoltati vi chiederei di ricordarvela di ricordarvela un momento che poi ne riparleremo i nostri valori cosa siamo siamo già siamo l'Evangelo è l'annuncio che Gesù ha amato e ama senza condizioni è quello che noi cerchiamo in un certo senso di dimostrare far vedere a qualsiasi persona ci viene ci viene messa davanti dal Signore il nostro il nostro servizio soprattutto per quanto riguarda il venerdì che è l'aiuto per le persone chiamiamoli senza tetto noi ormai li chiamiamo sono nostri amici non sono più senza tetto il venerdì cerchiamo di appunto dare un passo caldo parola di conforto e soprattutto cerchiamo di ascoltarli nell'ultima riunione che abbiamo fatto che abbiamo fatto con US uno dei fratelli ci ha letto proprio delle pagine legate legate all'ascolto e io ho cercato mi ha fatto pensare ha fatto pensare moltissimo questa cosa legata all'ascolto perché mi sono messo a cercare qualche chiamiamolo aforisma proprio volutamente non sono andato sulla Bibbia a guardare e ho letto ho visto ho trovato tante cose legate legate all'ascolto che sembravano un po' negative nel senso che tante persone parlavano della difficoltà proprio di essere ascoltate del tempo che gli viene dato e che nel momento in cui qualcuno ti sta parlando chi si è davanti molto spesso sembra molto più attento a cosa ti deve rispondere piuttosto al fatto che ti debba ascoltare e questo quando magari io parlo anche con amici con persone comunque vicino comunque persone che hanno condizioni tra virgolette normali mi rendo conto che è una mancanza che comunque alle volte si ha pensate alle persone che vivono per strada pensate a queste persone qui che difficilmente riescono a parlare con qualcuno che nessuno che nessuno le ascolta che nessuno le riesce effettivamente a dargli un a dargli un attenzione per cui in quell'ora e mezza in quelle due ore che noi svolgiamo questo servizio al venerdì sera il fatto di poter effettivamente ascoltarle per loro che sia un regalo incredibile questa cosa qui la può fare chiunque non ci vuole non bisogna fare una scuola o qualcosa è questione di aprire il cuore a qualcuno e abbiamo e si può fare si può fare logicamente si può andare le prime volte si può venire lì si può guardare un pochettino da lontano per capire come funziona come funziona come funziona tutto però il fine è quello che si può anche non far niente ma solo ascoltare e non è poi la fine solo ascoltare è una parte fondamentale del nostro lavoro in US vi dico due cose di US perché magari non tutti conoscono US nasce nel 95 qua ci sono persone che nel 95 si caricavano la macchina con coperte e panini andavano a darle in piazza piazza picapietra o in giro per la città nel 2001 è diventata un'associazione in tutto e per tutto per cui con una struttura e nel tempo è cresciuta per cui probabilmente il Signore vede in questa in questa associazione qualcosa qualcosa di positivo è cresciuta sta crescendo ma anche quando le cose si vede che vanno che stanno andando un po' meglio che vanno meglio forse è proprio il momento in cui bisogna ancora di più mettere della carne al fuoco perché perché se stiamo un minimo meglio rispetto a qualche anno fa ci rendiamo conto che se le cose si allargano se siamo più persone se ci sono tante persone che possono aiutare o comunque far parte di questo gruppo possiamo fare più cose possiamo fare veramente più cose il fine di US non è soltanto quello di vabbè vieni ti do un passo caldo e tanti saluti no cioè noi vieniamo lì sì il mezzo è giusto magari il passo caldo e soprattutto anche perché queste persone hanno fame in tutto e per tutto ma abbiamo modo di parlargli abbiamo modo di parlargli di parlargli di instaurare un rapporto di parlargli soprattutto del signore siamo lì praticamente per quello e oltretutto abbiamo anche modo di poter siamo il filtro per alcune associazioni che possono anche nello stesso istante in cui la persona effettivamente decide di andare in comunità che le possono rimettere in piedi sotto tutti i punti di vista fisico psichico e soprattutto spirituale ora tra tutte le cose che US fa c'è anche la raccolta alimentare che siete un po' un po' voi perché che siete anche voi nel senso che nel ogni una volta al mese vi viene chiesto di portare questo questi sacchetti con cibo tonno pelati tutte cose di questo di questo genere volevo un attimo darvi due noni per capire dove vanno a finire queste cose perché se no sembra che magari me le porto a casa io e non è proprio non è proprio stasera ci vediamo c'è un po' di roba da dividere no anche oggi per te mattina Lisa mi ha proprio chiesto espressamente dove vanno a finire questa dove vanno a finire queste cose allora innanzitutto questa è una relazione legata all'anno scorso e l'appuntamento della distribuzione alimentare è il terzo mercato del mese viene fatta nella chiesa battista cioè noi siamo un canale che alimenta ciò che la chiesa battista dà a queste famiglie in media vengono assistite circa 50-55 nuclei familiari per cui parliamo di 150-180 persone a queste vanno inserite nuove persone che si presentano all'appuntamento per il quale si dà l'aiuto e in media sono altri 7-10 nuclei familiari l'anno scorso cioè nel 2017 abbiamo siamo riusciti a raccogliere e per cui a donare 100 kg di formaggio 618 confezioni di biscotti 12,9 quintali di pasta 490 kg di farina 1.284 litri di latte 1.152 lattine di legumi 510 pacchi di riso 200 litri di olio 988 bottine di passato di pomodoro per dire si fa si fanno si possono fare veramente veramente tante cose come dicevo prima si può fare anche di più per cui nel senso questa volta è stato chiesto di fare per due volte la raccolta perché avevamo anche delle famiglie più vicino a noi che avevamo bisogno di aiutare e infatti alcune cose verranno girate a queste persone basta mi fermo qui chiedendovi di pensarci di pregare per noi e chi ha bisogno di informazioni io sono a disposizione sempre per quanto riguarda questo servizio e ci tengo a dirvi che io sono circa sei anni che faccio parte di questo gruppo è una delle cose più belle che mi sia successa in questi ultimi sei anni ve lo assicuro perché mi ha fatto proprio crescere come persona per cui vi assicuro che se io ho dato uno ho ricevuto 100 e non lo dico per fare del marketing ma è proprio una cosa vera l'ultima l'ultima delle cinque dei cinque linguaggi dell'amore con cui chiudiamo stamattina è quello del contatto fisico del gesto fisico mentre velocissimamente tratto questo ultimo linguaggio se il gruppo Lodo vuol venire e vi preparate a tonal 159 mi ha fatto un piacere prima facciamo gli annunci a chi toccano gli annunci a te e per cui concludo qua gli annunci 159 e il 159 lo considereremo come la conclusione della nostra mattina e contatti contatto fisico gesto gestualità da un punto di vista personale lo capisco molto bene io sono uno molto portato al gesto fisico al contatto e diciamo nel mio lavoro che mi porta molto a viaggiare in altri paesi eccetera ho dovuto imparare spesso facendo delle brutte figure vedendo gente che sbiancava che in certi paesi non è ammesso toccarsi non è ammesso avvicinarsi invece io abbraccio abbraccio faccio sulle spalle e c'è la gente che assolutamente sbiancava ok e ho imparato che a seconda dei paesi la distanza giusta è circa un metro in certi paesi è mezzo metro in certi paesi 12 metri dipende dai paesi ok per cui bisogna essere consci di questo in generale a qualunque livello diciamo il contatto fisico il gesto fisico se fa parte del mio linguaggio dell'amore è veramente un veicolo per dimostrare e per ricevere amore vi leggo due o tre versetti e poi appunto annunci eccetera eccetera prima di leggervi due o tre versetti vi voglio dire che tra le diverse cose che apprezzo diciamo nei miei contatti se più sporadici con la Chiesa Cattolica e vedo che ci sono veramente sia dei sacerdoti che dei fedeli diciamo che sono veramente gente impegnata veramente dei credenti apre una prese per dire che a un recentissimo funerale in cui siamo stati Aide io mi guardavo in giro perché il prete ha predicato il Vangelo ma alla stragrande e la reazione di molti dei presenti era che poi non finisce ma ascolta ma siccome è all'interno del la gente se lo perde non è interessata questa qua non so se era la parentesi quadra o graffa assomiglio sempre di più a Pierangelo adesso mi riprendo una delle cose che mi piacciono una delle cose che mi piacciono è che a un certo punto chi di voi qualche volta ci va ci si ferma e ci si scambia un segno di pace è una cosa bellissima vi avviso che magari in un futuro se mi verrà lo faremo è una cosa bellissima noi come chiesa in generale via Morini in particolare siamo un po' ingessatini siamo un po' ingessatini non voglio dire un'altra cosa un po' borghesucci un po' buongiorno come sta tutto bene saluti a casa e eh il contatto fisico il gesto anche all'interno di una chiesa è dimostrazione di amore sempre sotto il cartello di prima Corinzi 13 che l'amore non si comporta in modo sconveniente ok che bisogna saper amministrare mi fermo qua pur co' sono talmente d'accordo che direi è ovvio Matteo 8 20 ve lo dice ed ecco una donna malata di un flusso di sangue di 12 anni avvicinatasi da dietro gli toccò il lomo della veste perché diceva tra sé se riesco a toccare almeno la sua veste sarò guarita Gesù si voltò alla vita e disse coraggio figliola la tua fede ti ha guarito da quell'ora la donna fu guarita Matteo 8 1 quando egli scese dal monte una gran folla lo seguì ed ecco un lebroso avvicinatosi gli si prostrò davanti dicendo Signore se vuoi tu puoi purificarmi Gesù tese la mano e lo toccò dicendolo voglio essere purificato in quell'istante egli fu purificato dalla lebra Gesù ha fatto molti altri miracoli e ha guarito molta altra gente ha fatto anche molti altri miracoli ok in certi casi c'è stato un grande contatto fisico con le persone che hanno ricevuto un miracolo in certi altri casi zero ok secondo voi come mai che in modo particolare per questa donna aveva il flusso di sangue con tutto quello che voleva dire avere un flusso di sangue e questo lebroso con tutto quello che voleva dire essere lebroso Gesù li ha toccati perché una spiegazione ottima cosiddetta spiritualista giusto è vero ma perché in un gesto d'amore in un gesto d'amore cioè avevano bisogno il gesto il gesto d'amore di guarirli che semmai dico abbastava anche così il gesto d'amore di guarirli è completato dal gesto fisico di toccare che in quel caso come più e che in molti altri casi vuol dire io ti amo ricordatevi questi gesti sono fatti per che gli altri abbiano stima di loro di loro stessi per edificare per dire guarda che ma io i gesti il toccare il toccare i gesti in secondo Timoto 2.8 dice io voglio dunque che gli uomini preghino in ogni luogo alzando mani pure senza ira né dispute da un punto di vista teologico il versetto funzionava anche io voglio dunque che gli uomini preghino in ogni luogo senza ira e senza dispute da un punto di vista teologico il concetto scorre lo stesso solo che lo spirito non ha scritto così ha scritto io voglio dunque che gli uomini preghino in ogni luogo alzando mani pure un gesto fisico che sembra inutile sembra ridondante sembra in più l'importante è puro ira dispute queste sono le cose importanti alzare abbassare le mani beh e no e no uno dei linguaggi dell'amore è proprio il gesto il tocco fisico ok e anche in questo credo che ve lo dico io perché il tempo corre che questa chiesa possa veramente imparare a fare meglio e concludo col gesto più gesto di tutti se fosse Saddam Hussein vi direi che è la madre di tutti i gesti ok perché ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso cioè che il Signore Gesù nella notte in cui fu tradito prese del pane e dopo aver reso grazie lo rupe e disse questo è il mio corpo che è dato per voi fate questo in memoria di me nello stesso modo dopo aver cenato prese anche il calice dicendo questo calice è il nuovo patto del mio sangue fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me perché ogni volta che mangiate questo pane e bevete da questo calice voi annunziate la morte del Signore finché gli venga perciò chiunque mangerà il pane berrà del calice del Signore indegnamente sarà colpevole verso il corpo e il sangue del Signore ora ciascuno esamini se stesso e così mangi del pane e beva del calice perché chi mangia e beve mangia e beve un giudizio contro se stesso se non capisce che questo è il corpo del Signore per questo motivo molti fra voi sono infermi e malati e parecchi muoiono o dormono ora se esaminassimo noi stessi non saremo giudicati ma quando siamo giudicati siamo corretti dal Signore per non essere condannati col mondo Amen